Ciao, sono Tommaso e sono un civilista di Osvic. Sto svolgendo il servizio civile in Kenya nell'ambito del progetto Caschi Bianchi per l'educazione e la formazione in Kenya. Ritengo che svolgere il servizio civile rappresenti oggi una vera e propria occasione per poter mettere in gioco le proprie competenze e metterle a disposizione degli altri e della comunità, un aspetto che ritengo fondamentale soprattutto in una società come quella odierna caratterizzata dall'individualismo. Ritengo inoltre che svolgere il servizio civile rappresenta un'opportunità per poter sviluppare ed acquisire nuove life skills e per poter entrare in contatto con nuovi contesti e nuove realtà. Quindi scegli il servizio civile con Toxie, una scelta di valore.